Eder, Mech, Pallister Il mondo del calcio è in lutto, è morto ad Ascoli all'età di 86 anni Carlo Mazzone, una delle figure più iconiche dell'Italia del pallone, storico allenatore, guidò 12 squadre diverse, in un arco temporale di quasi 40 anni. Suo il record di panchine in serie A, 792 complessive. Era nato a Roma nel 1937. La sua carriera da calciatore era legata all'Ascoli, 219 presenze, moltissime da capitano. Cominciò nel 1968 ad allenare proprio i marchigiani quando di fatto calcava ancora il campo. Fra le sue tante panchine, anche la Fiorentina, la Roma, il Napoli, oltre a Cagliari, Perugia, Brescia, Bologna, Lecce e Catanzaro. Ultima esperienza a Livorno nel 2006. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale! Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!